Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare per questo incontro gli organizzatori, il professor Lupari, anche il direttore scientifico, per averci invitato io come moderatrice a questo festival sulla giustizia penale che è arrivato alla quarta edizione e che oggi ci consente di fare una chiacchierata su alcuni temi messi in luce in un libro, in un volume di Maurizio Catini, un professor ordinario di sociologia dell'organizzazione alla Bicocca. Il libro, anzi scusate che lo tiro fuori anch'io, un secondo solo, eccolo qui, ce l'abbiamo qui, questo libro, il libro si chiama Trovare il colpevole, la costruzione del capo espiatorio nelle organizzazioni e faremo una chiacchierata con altri docenti universitari, cioè col professor Vittorio Coletti che è un linguista, lessicografo italiano e consigliere dell'Accademia della Crusca e professore emerito di storia della lingua all'Università di Genova. Ma soprattutto in questo caso ci racconterà, perché è autore di un libro che si inserisce molto bene nei temi che oggi tratteremo, che si chiama Genova 2011, si intitola Genova 2011, analisi di un processo. Questo libro si tratta della vicenda giudiziaria dell'alluvione di Genova, quella del 2011 e del processo all'ex sindaca di Genova, Marta Vincenti. Poi abbiamo il professor Mongillo che è professore ordinario di diritto penale all'Università Telematica della Sapienza di Roma, si occupa di reati societari, fiscali, reati contro la pubblica amministrazione e soprattutto di responsabilità amministrativa dell'impresa. E poi abbiamo il giudice Giuseppe Gennari che è stato giudice in tribunale, è stato GIP, è stato prima al tribunale alla prima sezione penale, è stato giudice di alcuni processi molto importanti come il crack Parmalat, poi è stato GIP e si occupa comunque anche di biodiritto, di scienze forensi e dell'utilizzo della prova scientifica nei tribunali e applicata ai processi. Allora, adesso io volevo innanzitutto iniziare dal professor Catino e volevo chiedere se ci puoi restare a grandi linee di che cosa si tratta, cosa tratta il suo libro, c'è la costruzione di un capo espiatorio, di un colpevole o un gruppo ristretto di colpevoli all'interno delle organizzazioni, cosa comporta, quali sono i risvolti, quali sono gli aspetti positivi se mai ce ne sono, quali sono i limiti, se ci fa un quadro del tema centrale del suo libro. Grazie e grazie molto, voglio ringraziare gli organizzatori, il professor Luca Luparia per avermi invitato, mi fa davvero molto piacere essere qui con voi. Io sono un sociologo e non un giurista, quindi preciso, per cui abbiate pietà di eventuali affermazioni o considerazioni che nonstante alcuni cari amici cercano di insegnarmi la materia, ma c'è sempre la recalcitranza all'evento. Comunque, in breve, in poche parole, uno dei temi fondamentali che io cerco di affrontare nel libro riguarda i limiti al cambiamento organizzativo istituzionale, cioè i limiti che caratterizzano il cambiamento organizzativo istituzionale. Noi tendiamo ad affrontare problemi di carattere organizzativo con soluzioni di tipo individuale, spesso creando dei capri espiatori. Pensiamo alla vicenda Covid, adesso non abbiamo tanto tempo per parlarne, ma quali processi di apprendimento metteremo in campo se riduciamo tutto a una vicenda giudiziaria? O anche a una vicenda di commissioni parlamentari, dove sono luoghi, io ho fatto parte, sono stato consulente di una commissione parlamentare di inchiesta, sono spesso luoghi dove si tirano pugni nell'area, più che luoghi dove si innescono davvero processi di analisi dei fatti accaduti per migliorare le cose. Allora, di fronte a eventi negativi nelle organizzazioni sia pubbliche che private, eventi negativi come scandali di impresa, crisi, fallimenti, incidenti, ci sono due strade, due strategie che le organizzazioni possono mettere in campo per gestire i rischi che questi eventi negativi causano. La prima strada è quella di riconoscere le responsabilità mettendo in campo misure di rimedio, quindi generando processi positivi di cambiamento organizzativo. La seconda invece è quella di scaricare l'accaduto su uno o pochi individui all'interno dell'organizzazione, generando quelli che io chiamo i capri spiatori organizzativi. Dirò tra poco cosa intendo con questa locuzione. Questa seconda strada, molto seguita, pensate per esempio alla vicenda della FER Palamara CSM, impedisce processi di apprendimento istituzionale ed organizzativo e favorisce l'inerzia. Se lui è il colpevole, perché devo cambiare le cose? I capri spiatori. Io distingo nel libro tre tipi di capri spiatori. Il primo è la figura archetipa, la conosciamo, la vittima sacrificale, quella che è ben nota dal Levitico, dove il sacerdote durante le feste del Kippur veniva prima sacrificato un primo capro davanti alla tenda del sacerdote e poi sul secondo capro il sacerdote apponeva le sue mani scaricando così tutti i mali della comunità e questo secondo capro veniva lasciato, veniva abbandonato nel deserto. Era un modo per espiare i mali della comunità. Questa è la figura archetipa che poi ritroviamo in tante civiltà in giro per il mondo, nel tempio antico, ovviamente in Africa, in Asia, per esempio nell'antica Grecia c'era la figura del farmacos, che poi era il maledetto, che poi diventava farmacon una volta allontanato, quindi dal maledetto a colui che cura. Quindi questi riti erano presenti in tutte le comunità. C'è un secondo tipo di capro espiatorio che è il capro espiatorio innocente. Pensate all'evento Dreyfus, la storia dell'affaire Dreyfus. Dreyfus non aveva scritto il bordero, Dreyfus non era il responsabile del tradimento, ma verrà accusato di questo e dopo una vicenda giudiziaria abbastanza complicata si arriverà ad accertare in altro modo le responsabilità. Dreyfus non c'entrava niente, fu accusato di questo soltanto perché ebreo, ma anche perché alsaziano e quindi all'epoca non ci si fidava degli alsaziani, in quanto era terra nemica conquistata dal nemico e non appartenente alla Francia. C'è un terzo tipo di capro espiatorio che io ritengo molto più diffuso, il capro espiatorio organizzativo. E chi è? È un individuo o gruppo di individui che in qualche modo sono coinvolti nell'evento, ma sui quali ricadono colpe anche di altri. Attenzione, anche di altri. Quindi sono coinvolti i capri espiatori organizzativi, non sono persone o individui, singoli individui o gruppi di individui che in qualche modo hanno un certo coefficiente diciamo così di responsabilità, sono in qualche modo coinvolti nell'evento, ma sui quali come dicevo ricadono colpe di altri. Per esempio, il caso che analizzo in particolare dettaglio è il caso della Costa Concordia e non è che il capitano Schettino non comandasse la nave in quel momento, certo che comandava la nave, ma divenne un facile capro espiatorio proprio per allontanare altre criticità di carattere organizzativo oppure l'assenza dei controlli su questa pratica scellerata degli inchini. Quindi sono uno strumento di razionalità organizzativa. Nella loro costruzione, assolutamente, certo, questo è l'unico elemento positivo del capro espiatorio perché chiaramente consente a un gruppo di potere di continuare ad esistere, in poche parole. Sono strumenti quindi di razionalità organizzativa e ci sono due soggetti, due attori che contribuiscono malvolentieri dal volta alla loro creazione. Da una parte i mass media perché con la loro spettacolarizzazione favoriscono la creazione di rituali di degradazione. Soprattutto nella fase iniziale, siccome talvolta diventano poi una specie di propaggine della procura, quindi non saremmo tanto d'accordo, ma propagando diciamo la voce solo di una parte, rischiano poi di costruire in modo anticipato la posizione del colpevole ancora prima che l'evento sia effettivamente dimostrato. Ma non perché lo vogliono fare intenzionalmente, è una stortura del sistema che dovrebbe essere aggiustata. E l'altro appunto è il sistema giudiziario che è basato sulla responsabilità individuale e quindi di conseguenza per definizione si concentra sempre sugli individui e su quei fattori organizzativi che possono aver provocato l'occorrenza e la ricorrenza di questi eventi. C'è un problema anche di tempo, sappiamo che il processo penale è schiacciato sulla storia breve, non sulla storia lunga per definizione e quando lo fa non lo sa fare, rischia di farlo male. E quindi anche il concentrarsi sulla storia breve è un problema, perché guardate che alcuni eventi, se voi li guardate nella storia breve, sono patologici, ma se li guardate in un arco temporale più ampio diventano fisiologici. Pensate agli inchini, la pratica dell'inchino è stata considerata come patologica nella vicenda del disastro della Costa Concordia. Io ho fatto una ricostruzione storica, il primo inchino iniziò nel 1 ottobre del 1993, per 20 anni si sono ripetuti, ma in quell'inchiesta non c'è nessun approfondimento di questo tipo. Quindi il concentrarsi sulla storia lunga, storia breve è una distinzione che introdusse Tucidide, non con questi termini, ma nell'analisi delle vicende della guerra tra Parma e tra Sparta e Atene, sostanzialmente la differenza temporale cambiava il senso dell'inizio di quella guerra e delle motivazioni soprattutto di quella guerra, ma in questo caso il fatto di aver concentrato l'analisi soltanto sulla storia breve porta a spiegare l'evento come una patologia e non come invece un comportamento perfettamente conforme a una prassi che da oltre un ventennio si ripeteva. Quindi, questo solo per dire che quanto queste dinamiche poi dei mass media non lato e del sistema giudiziario dell'altro possono contribuire alla creazione di questi soggetti. Ancora qualche minuto? Per esempio, cito solo un caso, l'affair cosiddetto Palamara CSM e voi sapete bene che quella storia inizia nel 2020, nel 9 ottobre del 2020, quando quel magistrato che è stato un ex membro del CSM, nonché capo del presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, viene sostanzialmente rimosso dalla magistratura per aver interferito nell'esercizio delle attività di organi costituzionali, favorendo e sfavorendo le carriere di alcuni magistrati. Quel sistema non l'aveva certamente inventato lui, ma da dove nasce tutto ciò? Tutto ciò nasce dal 2006-2007, quando il testo unico viene riformato, il testo unico sulle carriere dei magistrati, viene riformato e si introducono criteri metitocratici. Tutti ricorderemo la famosa polemica di Leonardo Sciascia del 1987, no? Vi ricordate? In cui lui si contrapponeva logica meritocratica rispetto a un principio di anzianità, che allora era un principio vigente nelle carriere dei magistrati. Quindi al 2006 si inizia a cambiare introducendo elementi, secondo me anche giusti, no? Di logica meritocratica, di valutazione delle attitudini direttive. Però c'è un piccolo problema, come fai a valutare? E quindi ci si trova di fronte uno scoglio, quale quantitativo? Quantitativo perché quali indicatori usi, quelli indicati dal testo unico, dalla successiva regolamentazione, come li fai a misurare? È quantitativo. In quattro anni si sono trovati a giudicare fino a 1050 posizioni in sei persone della quinta commissione del CSM. Una situazione molto complicata, sono pacchi di materiali di questo tipo, io ho avuto accesso a questi documenti, vi assicuro faccio di mestiere al professore, quindi più o meno dovrei saper valutare, ma sono difficilmente valutabili. Dopo averne letti due o tre, ti dimentichi e passi al quarto, ti dimentichi già del primo. Quindi un carico di lavoro immane. Allora di fronte a un problema di questo tipo c'erano due strade. La prima era quella di creare strutture in grado di affrontare in termini amministrativi e meritocratici questo tipo di valutazione. La seconda quella di rivolgersi alle correnti, che diventano un sostituto funzionale di processi decisionali complessi. Si è scelta la seconda. Quindi attenzione, questo cosa vuol dire? Non che, cioè il vero problema è che la devianza nelle organizzazioni, come in questo caso, nasce quando la governance formale non funziona. E siccome la governance formale non funziona, se ne crea una extra legale. Se tu vuoi rimuovere quella extra legale, devi andare a modificare quella formale. Altrimenti crei solo capi espiatori organizzativi, come è accaduto. Perché i nodi sistemici continuano ad esistere. Cioè le stesse domande in evase di prima, cioè rimangono appunto in evase oggi, devono essere affrontate in qualche modo. Mi fermerei qui per il momento. Purtroppo vediamo se c'è una soluzione. Certo. Professor Coletti, allora, lei invece ha analizzato... Scusate. Ha analizzato la vicenda giudiziaria relativa all'alluvione di Genova del 2011, che causò sei morti, tre gradi di giudizio, conclusissi poi nel 2020. Anche in quella vicenda ci furono dei capi espiatori organizzativi? E in che lingua? E poi soprattutto dal punto di vista linguistico. Se ci può raccontare qualcosa, visto che il suo libro... Sì, io come si sa, come lei ha precisato, non sono del mestiere, del diritto, sono un linguista, sono un accademico della Crusca e mi occupo da una vita di lingua e di letteratura. Sono finito su questo caso per il mio secondo mestiere, che è quello di stato per una ventina d'anni di giornalista sulle pagine Ligure di Repubblica, dove avevo una rubrica e quindi tra le altre cose ho seguito il processo a Marta Vincenzi, un sindaco che io avevo criticato tantissimo prima, devo dire. E quando poi invece l'ho vista in queste situazioni e ho cominciato a seguire da vicino questa causa, mi sono, devo dire, molto preoccupato, perché ho visto innanzitutto il rapido passaggio dalla dimensione dell'errore alla dimensione del reato. Mi è parso che questo pensiero non fosse sufficientemente approfondito di rendersi conto di quelle che sono le dimensioni di un comportamento umano, anche in situazioni di emergenza o comunque molto difficili e delicate al reato. E poi appunto questa individuazione nella figura della sindaca, che era anche un personaggio molto vistoso, diciamo, delle caratteristiche del capo espiatorio, anche rispetto agli altri imputati, che poveretti avevano anche tutte le loro gatte da pelare, naturalmente. Però lei era, per l'opinione pubblica, per i giornali e in qualche modo un po' nella stessa andamento delle indagini prime, del processo poi, era il vero responsabile, il principale responsabile, il personale colpevole di questa vicenda. Con effetti anche di quelle che Maurizio Cattino nel suo libro chiamano di stigmatizzazione della persona. Faccio solo un esempio. C'è valuta la Cassazione, nella sentenza definitiva, per dire che quando la signora, quel mattino del 4 novembre 2011, si è trattenuta, fino a quando non è suonato un allarme enorme, a un convegno sulle Smart Cities, che era a Genova, organizzato dal comune di Genova, con sindaci da tutta Italia e da mezzo Europa, aveva fatto il suo dovere, fino a quel punto sembrava che lei fosse andata lì a favoreggiarsi. Quindi è proprio un caso di stigmatizzazione del comportamento personale. L'altra cosa che ho notato, con una certa preoccupazione che poi mi ha messo in contatto col mondo del diritto, va bene, tutto impropriamente, è questa strana commistione tra la raffinatezza del linguaggio giuridico, del ragionamento giuridico e la sua vicinanza col ragionamento popolare, con quello che diciamo più immediatamente e rapidamente arriva alle conclusioni quando succedono casi di questo genere, specialmente questi grandi disastri. Faccio di nuovo un esempio, tolto sempre da questo caso. Quando la sindaca Vincenzi è stata condannata, Cassazione ha chiesto di rivedere al ribasso le pene, eccetera. Al fine è condannata a tre anni, ha chiesto le pene alternative, credo che si chiamino così, sono alternative. Il Tribunale di Soveglianza di Genova si è riunito per concedergli, è una cosa che si fa abbastanza, credo, comunemente, la Procura Generale è favorevole, il collegio riluttante, tanto che hanno dovuto sostituire, è subentrato il Presidente del Tribunale di Soveglianza. E poi alla fine comunque è stata concessa, concedendo queste pene alternative, nella descrizione che il giudice o la giudice, se non ricordo, ne fa, si dice, insomma, non ha condannato per un reato molto grave, perché sono mancate da parte sua, è mancato da solo aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il disastro, va bene, tra parentesi, neanche le più, non ha adottato neanche le più elementari. Allora io dico, quel giorno era riunito in permanenza il Comitato di Sicurezza del Tribunale, erano state posizionate i drovore in tutte le parti della città, era stato, è stato chiuso le scuole in luoghi che si ritenevano a rischio, non quelli purtroppo in cui l'effetto sia verificato. I volontari erano stati mandati sui torrenti a controllare che non esondassero, va bene, i vigili distribuiti nella città. Ora, se un magistrato scrive che sono mancate le misure più elementari, qui c'è qualcosa che non va, no? Ecco, qui è un punto di vista, diciamo, culturale, che il magistrato finisce per sposare il discorso comune, l'agente comune, beh certo non ha fatto tutto quello, se l'avesse fatto sarebbe stato, no? Quello che si dice, questo io l'ho trovato abbastanza preoccupato. Così come ho trovato, anche linguisticamente, lei mi diceva, molto sconcertante l'uso di questa figura dell'agente modello che adesso ho visto però la Cassazione ha abbastanza ridimensionato, sta ridimensionando anche con la sentenza della cosiddetta strategia di Viareggio. Quello per la quale, cioè un agente concreto, uno che fa una cosa in una certa situazione, viene confrontato a un agente ideale, a un qualcuno che in una situazione astratta è lui, lui stesso astratto, come si sarebbe comportato? E con un effetto di disumanizzazione che insomma un umanista non può che notare, con una certa sconcerta. E qui faccio un altro esempio. Nelle tribunali territoriali una delle colpe che veniva addossata alla sindaca era quella appunto di non avere chiuso le scuole prima, tutte le scuole, va bene, e si diceva non le ha chiuse e si è visto anche nei discorsi che faceva nei corridoi prima, naturalmente che tutto questo avvenisse, si è visto perché era stata criticata in precedenza per averle chiuse con l'allarme che poi non si erano verificati e quindi c'erano state delle chiusure e diciamo in debite se così dire. A me questo sembra assolutamente normale, non riesco a capire come possa essere imputato a una colpa di una persona se avendo sbagliato ed essendo stata criticata una volta si fa dei ripensamenti, ha delle esitazioni, prende un atteggiamento più diciamo di attesa. E' chiaro che se si confronta una situazione ideale, il sindaco ideale, un'emergenza ideale, forse avrebbe chiuso. Però ho trovato questo abbastanza sconcettabile. infine quello che è l'assunto del libro di Catino, questo tipo di approccio non fa riconoscere i problemi veri che andrebbero risolti. Uno, faccio due casi, il giorno di quell'alluvione i vari volontari erano stati dislocati sui torrenti per controllarne l'esondazione. Ma avevano l'incarico di andarci ogni quattro ore. Naturalmente in un'ora è sceso tutto e quindi quello che non c'era, anzi non ha neanche più potuto andarci. oppure i presidi hanno fatto uscire, i presidi della scuola, della zona inondata, hanno fatto uscire i ragazzi spaventati dalla pioggia che veniva giù, chiamando tutti i genitori a prendersi. Cinque dei sei morti sono morti per questa... Allora è chiaro che qui era un problema di organizzazione, di controllo, di contatto. Ricordo una telefonata allucinante della pattuglia di vigili urbani che era sulla via inondata, dove ci sono stati tutti morti, che parla con la centrale e non si capiscono. La centrale gli dice chiudete, chiudete, cioè chiudete la strada. Questi erano lì di fronte a un tombino che era saldato, probabilmente ti devo chiudere il tombino. E poi sono stati anche loro, sono andati. Quindi evidentemente c'erano dei problemi naturalmente, poi alla fine la Cassazione ha tutto ridimensionato le responsabilità personali. Però la condanna è rimasta e credo che sia una storia non bella del nostro diritto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Tempo. Grazie. Professor Mongillo, allora, la tattica della costruzione di un capo espiatorio organizzativo, in che rapporto si pone con quella che è la novità rappresentata dalla responsabilità dell'ente collettivo prevista dalla legge 231 del 2001. Una responsabilità che per sua natura trascende ovviamente da quella dei singoli individui. Può aumentare la caccia al capo espiatorio o può servire a contenerla mediante l'attuazione e l'adozione dei modelli organizzativi? Grazie. Grazie per la domanda. Grazie ovviamente innanzitutto agli organizzatori per l'invito al professor Luca Luparia, questo bellissimo festival. Il libro di Maurizio Catino è molto interessante, fornisce direi una base socio-impirica, empirico-sociale, ha molte teorie, considerazioni, che come penalisti facciamo da vari decenni quando trattiamo del diritto penale applicato all'organizzazione. Sotto penalisti sensibili ai principi costituzionali, penso al principio di personalità della responsabilità penale. La svolta del decreto legislativo 231 del 2001 che lei ha evocato chiaramente impatta anche su questo problema che è trattato nel volume, che ruota attorno al paradigma del capo espiatorio, che è una costante, sappiamo, della storia dell'umanità e anche ben presente nelle società che chiamiamo civilizzate, no? Del ventunesimo secolo. Da questo punto di vista credo ecco due aspetti, due illuminazioni ci vengono innanzitutto da questo volume, se parliamo appunto di capo espiatorio. La prima è che se volessimo confrontare quello arcaico con quello moderno, diciamo che i rituali di capo espiatorio di un tempo erano magico religiosi, oggi sono giudiziario mediatici, nel senso che il processo penale e il processo mediatico, quella che chiamiamo la gogna mediatica, sono come la tenaglia che stringiamo attorno al collo del capo espiatorio di turno. Ora, quella tesi che vorrei brevemente sviluppare, dopo aver evidenziato anche la seconda intuizione del libro, cioè che oggi dovremmo occuparci, il libro lo fa magistralmente, del capo espiatorio organizzativo, ma per una ragione molto semplice, la vita degli esseri umani oggi si svolge prevalentemente nel microcosmo che sono le organizzazioni e quindi è chiaro che queste pratiche, questi fenomeni si producono principalmente all'interno delle organizzazioni. Con la tesi che vorrei provare brevemente a sviluppare è essenzialmente che il processo penale e il diritto penale tradizionale, quello che diretto contro le persone fisiche è per sua natura, direi, intrinsecamente un fattore di produzione e riproduzione anche dei capo espiatori organizzativi, il decreto legislativo 231 del 2001, cioè l'idea di una responsabilità dell'ente, meta individuale è come dire un tentativo anche di superare e di contenere questo problema, questa criticità. qual è l'aspetto che accomuna tutte le varie forme di capo espiatorio nella storia, le varie tipologie che il volume benissimo sviluppa e come anche riassunto all'inizio del professor Catino? Cioè il tratto comune essenzialmente è che c'è un soggetto che paga colpe che non sono non sue, paga anche colpe che non sono sue. Questo avviene anche con il capo espiatorio organizzativo perché il meccanismo è quello di trasferire appunto su un singolo colpe collettive in funzione di stabilizzazione dell'organizzazione di una entità, può essere anche maggiore appunto di una società, affinché possa continuare ad operare come prima. Ora questo problema quando accade in un'organizzazione complessa che è fonte di rischi per beni giuridici fondamentali esiziali perché porta ad occultare le criticità, vengono nascoste, cioè non vengono superate. Allora perché il diritto penale tradizionale ha questo vizio genetico, cioè quello che riguarda solo le persone fisiche? Perché noi cosa facciamo nei processi penali contro le persone fisiche? Cerchiamo nel caso di reati di impresa, reati generati da organizzazioni, cerchiamo di identificare dei colpevoli all'interno di un'organizzazione complessa. Il problema è che c'è sempre e immanente uno scarto insanabile, direi una simmetria profonda tra le ragioni organizzative di quel fatto e la colpa che noi addebitiamo al singolo. Come dire c'è un'eccedenza di imputazione, un eccesso sempre di imputazione nei confronti del singolo. E come viene colmato lo scarto? Viene colmato tramite appunto la tecnica del capro espiatorio organizzativo. Vorrei dire, non posso uscire nei dettagli perché non è questa la sede. Abbiamo un intero arsenale dommatico, un'intera rete di concetti che possono consentire questo meccanismo, dalla posizione di garanzia, dalla teoria della colpa, alla teoria della compartecipazione criminosa. Elaboriamo figure idealizzate di agenti modello onniscienti che tutto possono prevedere e tutto possono evitare. E poi abbiamo chiaramente il processo penale che assieme appunto ai rituali mediatici garantisce la spettacolarizzazione, la spettacolarizzazione del dolore, l'immoralità dell'essere umano che viene data in pasto all'opinione pubblica. Direi un po' evocando quello che diceva Nice nei confronti dei supplizi medievali, c'è un'area di festa. Ora c'è un'area di festa dei processi penali, cioè sono spettacolo in qualche modo. Allora capite bene perché la responsabilità dell'ente per il penalista sensibile a queste problematiche ha rappresentato una ventata di speranza. E cioè che l'idea è che finalmente l'ente, l'organizzazione, la collettività organizzata non può più nascondersi dietro la colpa individuale, dietro la cortina di fumo della colpevolizzazione solo del singolo. E' chiaro che resta anche eventualmente la responsabilità individuale, che resta la prima responsabilità. Però l'individuo finalmente potrà rispondere, questo era l'auspicio, soltanto delle colpe sue, non anche delle colpe della collettività, quelle diffuse magari nell'organizzazione, nelle sue carenze di sistema, nel difetto di organizzazione. Questo diciamo è l'obiettivo, era l'obiettivo. Bisogna chiedersi se l'obiettivo è stato raggiunto. Lo posso dire? L'obiettivo è stato raggiunto o non è stato raggiunto? Ecco direi che ad oggi quelle speranze non sono state ancora soddisfatte, per due ragioni essenzialmente. La prima è che il decreto, questa nuova forma di responsabilità, richiedeva un cambio di mentalità, che è difficile che maturi in breve tempo e quindi ancora deve maturare. E la seconda ragione, essenzialmente, se parliamo in alcuni ambiti di colpa, di responsabilità penale, dove questi meccanismi maggiormente si manifestano, penso alla responsabilità per colpa, la colpa penale, quindi responsabilità di colpa, ancora oggi noi vediamo che quando si arriva anche a contestare la responsabilità dell'ente e viene accertato il difetto di organizzazione, di questo non si viene conto nella valutazione della colpa individuale, quindi nella punibilità o nel trattamento sanzionatorio. Mi servo alla seconda parte magari di qualche altra considerazione, se è d'accordo. No, ma se faccio ci sono poi le differenze, se non sbaglio, adesso... Sì, prego. Dopo ne parliamo. Dottor Gennari, il libro del professor Catino ha messo in luce, sotto certi aspetti, i limiti del sistema giustizia, il quale si muove esclusivamente entro certi perimetri e dalla sua esperienza, lei che appunto opera all'interno di questo sistema, che idea si è fatto? Cioè si può parlare di giustizia inadeguata, si può parlare di giustizia mio, che idea si è fatto di... si arriva a delle decisioni corrette? Cioè... quando ci sono i processi? Sì, ma allora, secondo me, io ho apprezzato molto quello che ha detto con l'efficacia del non giurista il professor Coletti, perché poi il senso comune spesso è molto più diretto e significativo del linguaggio di noi giuristi, ma ho apprezzato molto anche quello che le riflessioni che ha fatto il professor Mongillo e quindi vorrei, come dire, idealmente riprendere i due fili. Io penso che vi siano delle problematiche e delle tematiche che ineriscono la struttura stessa del giudizio penale e questo forse è una considerazione che può interessare maggiormente i tecnici e poi invece una considerazione che vorrò fare sul rapporto tra giudizio penale e società, cioè la domanda che la società rivolge al sistema penale. Dal primo punto di vista io penso che l'armamentario penale che nasce, come giustamente evidenziava il professor Mongillo, sull'idea della giustizia relativa all'individuo, alla responsabilità individuale, abbia delle difficoltà o comunque delle complessità intrinseche nel momento in cui deve affrontare un tema di responsabilità che si inserisce nel contesto di un'attività organizzata. Il passaggio dal diritto penale liberale ottocentesco al diritto penale post-Costituzione e quindi è un diritto penale che ha anche una dimensione propulsiva di orientamento della società e dei comportamenti sociali e anche il diritto penale che ha necessità, come diceva il professor Coletti, di modellizzare perché è il diritto penale che promuove degli standard di comportamento ai quali dovrebbe uniformarsi la gente che muove nelle vicende sociali. La modellizzazione è estremamente complessa, è sempre una modellizzazione astratta, una modellizzazione che quando non è ancorata a delle norme codificate rischia sempre di pagare lo scotto di una valutazione meramente teorica o discrezionale. E questo è, come dicevo, una difficoltà intrinseca del diritto penale che si confronta con, ad esempio, i grandi temi della responsabilità omissiva e della responsabilità colposa, che sono cosa no tecnicamente profondamente diversa dalla, se vogliamo, tra virgolette banale responsabilità per dolo, in cui l'atteggiamento soggettivo ha una sua, come dire, una sua definizione molto più agevole, molto più semplice. Volevi, non volevi, hai commesso, non hai commesso quel fatto. Quando invece entriamo nell'ambito del comportamento che avresti dovuto tenere, il fatto che avresti dovuto, evidentemente entriamo nell'ambito di una serie di valutazioni che, come giuristi sanno, si connotano di valutazioni di tipo ipotetico estremamente complesse. E quindi questo penso che sia una difficoltà propria del diritto penale, del diritto penale moderno, una difficoltà con la quale dovremmo, come dire, fare i conti e riflettere. Ad esempio, la via che tracciava il professor Mongiglio, cioè l'individuazione di una responsabilità dell'ente che possa sdrammatizzare e in qualche modo allentare l'attenzione rispetto alla responsabilità individuale può essere una lettura, come dire, utile e una lettura stimolante. Trovo però che un altro tema sul quale dovremo tutti confrontarci quando appunto parliamo di vicende complesse e articolate, come quelle che descrive Maurizio Cattino nel suo libro, è il rapporto tra giustizia penale e società. Cioè quello che oggi la società chiede e vuole dalla giustizia penale e qui penso che il meccanismo abbia assunto delle connotazioni fortemente patologiche. Io non sono, come dire, non sono più giovane ma non sono neanche, come dire, anzianissimo e quindi, come dire, nella mia memoria storica rammento perché all'epoca ero, come dire, studente, la vicenda di Mani Pulite. E a me pare che quella vicenda in questa dinamica, in questa relazione società-giustizia abbia rappresentato un po' uno snodo. Nel senso che si è caricato il sistema penale della pretesa di dire la verità, dire nel senso di enunciare la verità. E qui vi è stata, poi, come dire, forse anche di cambiare, ma intanto di stabilire la verità con una sovrapposizione indebita tra verità storica e verità giudiziaria, che sono due cose diverse. Perché la verità giudiziaria è una verità che si muove nell'ambito di confini definiti dal punto di vista temporale, dal punto di vista delle regole processuali. La verità giudiziaria si fonda su un accertamento che parte da un certo punto, termina a un certo punto e può conoscere solamente i fatti che hanno trovato ingresso nel rispetto di determinate regole. Non è affatto detto che la verità giudiziaria corrisponda alla verità storica. E quindi utilizzare il processo penale per pretendere di accertare la verità storica è, dal mio punto di vista, una distorsione potente del sistema della giustizia penale. E la cosa che, come dire, io trovo più preoccupante è che a volte noi stessi cediamo alla tentazione di farci portatori di questa ricerca di verità storica. Io, da osservatore esterno, e mi permetto di fare questa considerazione, io sono rimasto fortemente colpito dalla vicenda del processo Covid e dalle dichiarazioni che sono state fatte in occasione della presentazione della conclusione dell'indagine alla vicenda del processo Covid. E quando un pubblico ministero dichiara e dice che molto verosimilmente quella vicenda finirà in nulla, perché sa che la Cassazione è di avviso esattamente contrario alle tesi che lui sostiene, ma che doveva fare quella attività giudiziaria perché doveva una risposta ai morti, questa è una deviazione radicale dalla funzione del sistema penale. Radicale, perché non è quello il compito che appartiene alla giustizia penale. Perché questo sia accaduto, io non lo so, nel senso che questo forse è compito dei sociologi. Se questo è accaduto perché sono venuti meno quei meccanismi che avrebbero dovuto compensare tra l'estremo della giustizia penale e l'assenza della risposta dal punto di vista della politica e dell'amministrazione. Su questo potremmo confrontarci, ma quello che osservo è un po' anche quello che traspare dalle pagine del libro di Mario Zecotino, ad esempio rispetto appunto alle vicende a Costa Concordia, è appunto il rischio del farsi carico da parte della giustizia penale di funzioni che non sono proprie dell'attività giudiziaria. E questo è un meccanismo che favorisce in maniera potente la creazione di capri espiatori e favorisce in maniera potente anche l'errore nell'accertamento della responsabilità penale individuale. Grazie. Quante volte abbiamo sentito dire, ah dove non arriva la politica, arriva la magistratura, tanto ci sono, cioè abbiamo sentito dire tante volte, no? Dove la magistratura un po' mani pulite è un esempio, adesso abbiamo l'esempio del covid, ne abbiamo avuti tanti. Va bene, adesso io volevo fare a tutti un po', c'era una domanda unica e poi ognuno che compete ci potrà dare una risposta. Insomma, lo scenario che ha trattato dal libro ci fa intendere quanto è dannoso costruire i capri espiatori all'interno dell'organizzazione, cioè non si arriva a niente, spesso peggiorano anzi la situazione e poco servono a risolvere le crisi, no? Allora cosa fare per ribaltare? Ci sono delle soluzioni? Si può fare qualcosa di positivo, cerchiamo di guardarlo in positivo. Vabbè, domanda da un milione di dollari. Dunque, la mia idea è questa, innanzitutto bisogna un certo livello di consapevolezza. Il primo punto è non si fa apprendimento con i processi, non si fa sicurezza con i processi, quindi la severità della pena non è correlata all'apprendimento organizzativo. Sembra una profonda banalità, ma nel mondo dei non addetti ai lavori vi assicuro che non è proprio così chiaro. Faccio un esempio. Ciampino. Un piccolo aereo si schianta a bordo pista dopo il decollo e sul posto arriva il procuratore che riceve evidentemente la chiamata e l'ispettore dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo, che è un'agenzia che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si occupa di fare investigazioni in caso di incidenti per emanare raccomandazioni quindi migliorative, non quindi investigazioni ai fini della responsabilità. I due soggetti guardano lo stesso in modo diverso. Per l'uno quello è un corpo del reato, adesso enfatizzo un po', per l'altro è un luogo dove apprendere per poter... e in questo caso non sono riusciti a trovare un buon accordo, perché il primo dice no, non lo toccare perché se metti mano, il primo intendo il procuratore, se metti mano mi modifichi la scena del crimine. L'altro dice ma io devo sapere se entro stasera, devo emanare delle raccomandazioni in modo tale che tutti i possessori di quell'aereo, in Italia e non, possano diciamo verificare che appunto questo difetto non sia presente anche sul loro velivono. Allora vedete che il primo risponde a un obbligo di giustizia, ma guarda al passato, l'altro risponde a un obbligo di sicurezza e guarda al futuro. Il problema è come tenere queste due logiche, entrambe giuste e io non le nego, in un sistema che oggi è un po' più squilibrato da una parte, perché l'una ha molta forza istituzionale ma talvolta non sempre ha ragione. L'altra è esattamente il contrario, non ha forza istituzionale ma avrebbe molte ragioni da attuare. Quindi è necessario secondo me un cambiamento cognitivo e culturale, cioè guardare lo stesso in modo diverso e un diverso modo di giudicare i fatti, essere consapevoli del cosiddetto segno di poi, quello che evidentemente manca nella vicenda Covid. Il segno di poi è studiato da 40 anni dagli psicologi sociali, il cosiddetto insight bias, per cui spesso chi valuta questi fatti, li fa, cioè proietta sui soggetti delle capacità previsionali, talvolta divinatorie, che gli stessi non avrebbe se possono lo stesso contesto. E questi bias continuano a perdurare sia nell'attività investigativa ma ancora di più nell'attività diciamo di valutazione. E quindi questo bias assieme poi produce una serie di distorsioni dal punto di vista proprio dell'apprendimento. Poi c'è un altro problema che è un problema di tipo istituzionale, cioè chi dovrebbe fare queste analisi? Perché noi deleghiamo ai tribunali la ricerca della verità giudiziaria e purtroppo qualcuno poi pensa di fare anche, di assumersi anche il ruolo della cosiddetta verità storica all'interno di quella giudiziaria. Quindi chi dovrebbe occuparsi? Questo è un problema di sperimentalismo istituzionale, cioè non abbiamo istituzioni appropriate, adeguate per svolgere queste analisi, perché non lo devono fare i tribunali ma non sono in grado di farlo neanche le commissioni parlamentari. Allora su queste grandi vicende che riguardano il nostro paese, chi è in grado? In grado intendo quale istituzioni? Ci sono delle buone esperienze che vengono da altri paesi, per esempio nel libro degli Stati Uniti, ma non solo, ne prendo in esame alcune, dove appunto abbiamo delle buone analisi che hanno messo per esempio in esame i fallimenti organizzativi nella vicenda degli shuttle, del challenger del Columbia, ma anche sul caso 9-11, l'attacco terroristico alle torri gemelli, quella commissione d'inchiesta ha messo a nudo le debolezze del sistema della difesa americana, al di fuori di logiche cospirative o di complottistiche, invece sono state molto presenti nel nostro paese, e hanno messo bene in evidenza tutti i punti critici da migliorare, creando un sistema della difesa, cioè punti di partenza per creare poi un sistema della difesa, diciamo così migliore. Ecco, quello che manca secondo me nel nostro paese, appunto, è proprio questo. Sinceramente la domanda è complicata, chi dovrebbe fare questo tipo di analisi per apprendere, per far apprendere i sistemi e non soltanto per giudicare le cose che poi spetta, ovviamente, le aule, diciamo, di giustizia? È un po' quella che la Shila Yasenov chiamava la epistemologia civica, avremmo bisogno di una nuova epistemologia civica per poter affrontare questi problemi, altrimenti come nel caso del Covid, metti che sia che si vada a processo e saranno condannati, o che saranno tutti assolti, e comunque il sistema non avrà mica appreso, non sarà diventato più resiliente, e quelle forme di apprendimento sul campo, di learning by doing, poi nel corso del tempo, chiaramente si perdono, si dimenticano, quindi i sistemi poi, da questo punto di vista, non apprendono. Io, non avendo nessuna competenza tecnica, posso soltanto esprimere una speranza, che ci sia, come dire, un progressivo cambiamento nella cultura diffusa, che porti a pensare che, per esempio, quando ci sono delle vittime, non sempre se ci sono le vittime ci sono anche dei colpevoli penalmente identificabili e riconoscibili, che purtroppo continuano ad esserci anche le disgrazie, e che se un tempo sotto il termine di disgrazie si nascondeva tutto, interesse, eccetera, però non di meno anche da quando sono perseguiti i colpevoli eventuali disgrazie, non le disgrazie, le cause multiple, la difficoltà individuale, questo continua ad esserci, è una cosa che deve entrare nel nostro modo di pensare, e finché non ci entrerà, certamente sarà difficile, così come mi augurerei che si imparasse a pensare che la giustizia non coincide con la condanna di qualcuno. Pensate alla reazione al caso di Rigopiano, non è condannato, è l'ingiustizia, capisce? Tre cose che voi sapete meglio di me. Posso soltanto esprimere la speranza che anche i magistrati lo imparino, imparino da quello che per esempio ha detto ora il dottor Gennari, magnificamente. Grazie. Grazie. Solo qualche spunto. Ultimamente noi vediamo, quando ci sono delle crisi, diciamo, per quanto riguarda l'Italia, io vedo, almeno io, è acceso? Quando vedo processi, procedimenti che riguardano le imprese, che riguardano dei reati fiscali, ci sono spesso scatta, per esempio, c'è la richiesta di un'amministrazione giudiziaria, ci sono degli altri, diciamo, dei metodi per cui, per fare in modo che venga applicata poi, venga, tra virgolette, risanato. Secondo lei, in certi procedimenti vedo una strategia, una strategia che non è solo quella di punire, colpevolizzare, ma di cercare di trovare una soluzione affinché il sistema ammalato, tra virgolette, guarisca. Sono assolutamente d'accordo. Questi sono tutti aspetti di un'evoluzione positiva dell'ordinamento giuridico, che va proprio in quella direzione che prima ho evocato, cioè di porre, mettere i frettori sull'organizzazione, quindi sulle carenze dell'organizzazione, non solo sulla colpa individuale, quindi favorire il superamento delle carenze tramite degli strumenti che definirei curativi, riorganizzativi. Ora, il decreto legislativo 231, l'ho parlato prima, ma tutti questi strumenti di cui anche oggi si è parlato in alcune sessioni di controllo giudiziario, amministrazione giudiziaria, rispondono a questa logica. Lo stesso decreto legislativo 231, perché è importante che venga scoperto appieno dalla magistratura? Perché non deve essere visto solo come un'aggiunta di repressione. È un formidabile strumento per ottenere due obiettivi molto utili, riorganizzazione e riparazione. Se si capisce questo, questa disciplina verrà applicata in un modo meno disomogeneo, come oggi, che è applicata in modo estremamente saltuario. Ovviamente bisogna stare attenti anche all'insidia della cosiddetta compliance penale. Penso ad esempio al rischio che questa diventa essa stessa un volano di colpevolizzazione, di capo espiatorio. Penso al tema oggi molto alla pace delle internal investigation. Ecco, questo, io perché non sono un grande fautore delle importazioni dei modelli americani? Che non mi piace un modello in cui l'organizzazione si fa le sue indagini, individua un soggetto e lo consegna alla magistratura. Questo potrebbe condurre a quel rischio, di cui parla anche Gatineo nel libro, della cosiddetta whistleblowing al contrario. Cioè, andiamo a colpevolizzare persone ai livelli medio-bassi della scala gerarchica. Questo non sarebbe ovviamente la soluzione al problema. Dobbiamo limitare la responsabilità per colpa. Qui veramente c'è un eccesso nel nostro sistema penale. Tutti questi casi di capo espiatorio che vengono trattati nel libro, in larga parte, sono casi di responsabilità per colpa. Penso allora, ad esempio, oltre al richiamo, ovviamente, come noi facciamo noi penalisti, ai principi fondamentali, presidio, le garanzie. Penso anche all'evoluzione positiva che si potrebbe avere con la giustizia riparativa. Cioè, io vedo un futuro importante per la giustizia riparativa proprio nel campo della responsabilità colposa. Perché la responsabilità colposa produce sofferenza anche nell'autore del reato. E quindi la giustizia riparativa può essere quello strumento che consente di risanare la frattura che veramente si è manifestata per, come dire, superare il dolore provocato dal fatto. Potrebbe essere un elemento di contenimento di questa giustizia penale così invasiva, così straripante. E poi chiaramente c'è il cambiamento culturale. Non sono problemi che possiamo affrontare solo a livello giudiziario, solo a livello penale, solo a livello giuridico. È un problema di cambiamento di cultura. Nell'organizzazione, ecco, ho ascoltato, ho partecipato ad alcune iniziative ultimamente organizzate da associazioni di imprese che operano nel settore del trasporto aereo, ferroviario, dove ci sono ovviamente dei problemi di rischio incommensurabili. Ecco, c'è l'idea di aderire a un nuovo modello che è quello della just culture, così è chiamato. Cioè, l'organizzazione deve far emergere dall'interno anche le criticità. favorire le segnalazioni degli incidenti, anche dei mancati incidenti. Perché questo deve essere poi lo strumento per fare quell'analisi che deve portare al superamento della criticità. Per fare questo dobbiamo abbandonare una cultura della colpevolizzazione individuale. E abbandonare anche quella logica del senno del poi di cui parlava il professor Catino e di cui parlava in realtà anche, ovviamente, oltre agli studi di psicologia cognitiva, hanno documentato in chiave empirica anche autori, penso, ecco, mi piace citare oggi, ma anche Manzoni, nella storia della colonna infame, parla proprio di questo problema, del senno del poi, che è una distorsione del nostro modo di valutare alcuni problemi. Grazie. Gennari. Sì, forse tre spunti scollegati. Il primo mi riconnetto a quello che diceva il professor Mongillo sui niarmisti, se via dicendo. Quella a me pare che sia, come dire, una strada sulla quale è ragionale. So che Maurizio Catino è un esperto di responsabilità anche in ambito sanitario. Ad esempio, la Gelli Bianco mi pare che muova nel senso anche di introdurre gli strumenti di valutazione, non so poi quale sia stato il feedback, se abbia funzionato o meno, esiste poi anche il problema di scudare quell'attività interna eventualmente di indagine dalla possibile indagine giudiziaria, perché è chiaro che se quell'attività interna di indagine, corregimi se sbaglio, può essere poi il giorno dopo appresa, quindi questo è un problema di tipo normativo che andrebbe affrontato, comprendendo che forse, come dire, come nella vicenda di Ciampino, migliorare per il futuro, per la collettività è più importante che trovare il colpevole o il pseudo colpevole da attaccare al muro. Il secondo aspetto che volevo evidenziare, perché il tema mi appassiona e mi interessa, ma il discorso del senno del poi non è soltanto un modo di dire, cioè il senno del poi ha una dimensione scientifica ben nota in ambito della psicologia cognitiva, così come la psicologia cognitiva fornisce degli strumenti di debiasing abbastanza consolidati ormai, che può essere quello, la tecnica dell'avvocato del diavolo o la doppia valutazione, quindi forse avere anche tra di noi che dobbiamo formulare giudizi e una formazione che non sia solo esclusivamente giuridica, ma che ci educhi anche al ragionamento, a come si ragiona o a quali sono gli inganni del ragionamento, sarebbe probabilmente necessario. E il terzo, invece il terzo spot che volevo dare, però se ne parlavo in macchina Francesca diceva di non aprire questo tema, ma bisogna anche riflettere sul rapporto tra mass media e giustizia, perché poi questo meccanismo di tracimazione della giustizia penale verso funzioni extra è anche perché questo meccanismo va di pari passo con una esasperazione da parte del mondo mass mediatico di determinati eventi, della ricerca del colpevole e via dicendo. E un altro tema molto importante, secondo me, è quello che evidenziava prima il Presidente Canzio, cioè il discorso del tempo e dell'incidenza del tempo. L'attività, e anche di questo si parlava prima con Marizio, l'attività di accertamento della responsabilità penale, è un'attività che richiede tempo. E più questo tempo è dilatato e più si consolidano delle convinzioni provvisorie fondate su una rappresentazione unilaterale della realtà. E in questo c'è un meccanismo a cortocircuito con il mondo mass mediatico, perché poi anche i giudici che giudicano sono cittadini che vivono. Quindi questo meccanismo di rafforzamento della rappresentazione unilaterale dei fatti che ha luogo sistematicamente nella fase delle indagini si riverbara anche sulle capacità di giudizio e sul discorso del condizionamento psicologico di chi poi va a giudicare quei fatti. Quindi il meccanismo è lungo e articolato, per carità. Forse, come dire, dovremmo fare tutti insieme un discorso di carattere culturale, non è che se ne esce con la norma che vieta di fare il processo in televisione. Però se vogliamo fare un'analisi, io ricordo, poi dopo me ne taccio, siamo partiti con il plastico di cogne vent'anni fa. E da lì è stato un crollo, è stato un crollo costante. È stato un crollo costante. Però noi dovremmo fare... Con i protagonisti che in parallelo facevano il processo in televisione e poi il giorno dopo... E lo so, purtroppo è mezzo. Questo su questo è Dovenia. Mi perdonerai. Ti perdono, ma io da anni che continuo a dire che dovremmo vederci a Milano e fare qualche... Allora, volevamo sapere se c'erano domande da fare tra il pubblico, se avete... Nessuna domanda? Allora, vi ringraziamo per averci ascoltato. La prossima volta facciamo... Apriremo un dibattito su giustizia e media. Apriremo un bel dibattito. Io posso raccontare un po' di cose, però non tutti ci mettiamo lì e costruiamo i plastici. Grazie. Grazie a tutti. La prossima volta... Grazie a tutti.